Il progetto Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale proposto dall'Osservatorio per la cultura, la legalità e la sicurezza si arricchisce di un'ulteriore iniziativa sociale dal titolo Corto Legalità con le scuole di Agropoli e Buccino anno scolastico 2018-2019 con l'ausilio di uno staff tecnico esperto per la realizzazione dei cortometraggi sull'educazione alla legalità. L'iniziativa vede coinvolte le scuole medie di Buccino e Agropoli ed altri comprensori in gara per la manifestazione conclusiva del 17 maggio al Teatro De Filippo di Agropoli. Il produttore, la sceneggiatrice e il regista dei film sono già al lavoro per essere pronti, li mando gli ultimi dettagli all'incontro con i giovani. L'idea è quella di far crescere negli anni attraverso la cinematografia una coscienza civica nelle nuove generazioni, far comprendere i tanti aspetti dell'illegalità nascosti nella società civile, a volte non facilmente individuabili. Il corto è stato particolarmente impegnativo perché abbiamo unito una storia con un videoclip cantato da una cantante che si chiama Linda D e attraverso il testo della sua canzone abbiamo raccontato una storia. L'impegno dei ragazzi è stato altissimo perché abbiamo dovuto raccontare storie anche molto delicate e devo dire il risultato è davvero emozionante. Ecco, questo è il termine che darei per descrivere il cortometraggio. Abbiamo realizzato le riprese in quattro giorni con la scuola Gino Rossibairo di Agropoli, l'istituto comprensivo e devo dire che è stato un lavoro eccellente anche dal punto di vista organizzativo perché siamo riusciti appunto a realizzare scene anche molto complicate da un punto di vista di realizzazione sempre con divertimento, con gioia e con impegno. Io sono felicissimo perché oggi esce in antiprima il corto realizzato dai ragazzi della scuola media Gino Rossibairo, un corto dove abbiamo avuto anche la collaborazione di una cantante l'Inda D, quindi è tratto proprio dal suo ultimo brano che mondo è. I ragazzi sono stati attenti, hanno realizzato con entusiasmo questo cortometraggio che poi sarà presentato al prossimo festival il 17 maggio insieme a tutti gli altri cortometraggi che abbiamo realizzato con i ragazzi della provincia di Salerno.